Ciao a tutti ragazzi qui è FortuGamer che parla e benvenuti in un nuovo video Io ormai non so neanche più perché faccio sfide così complicate Cioè se ho meno di 50 di vita il video finisce Cioè guardatemi in faccia Ma dotate qualcosa di strano Ma prima di iniziare ragazzi vi ricordo che questo video è in collaborazione con Boeing Infatti ragazzi andando nella descrizione di questo video Troverete il link che vi permetterà di scaricare l'app di Boeing ufficiale sul vostro telefono L'app che si presenta in questo modo ragazzi vi permette di fare davvero un botto di cose Mi ha colpito molto positivamente Infatti ragazzi ci sono un botto di serie e di cartoni animati che potete vedere Anche molti importanti della mia infanzia come possono essere Scooby-Doo Che io ho sempre amato Dragon Ball Super Ma anche Ben 10 per esempio che anche da piccolo guardavo un sacco Ma nel caso già abbiate fatto una bella maratona lunga lunga sull'app Avendo visto già un botto di cartoni potreste fare anche una pausa andando nella sezione giochi Infatti l'app vi propone un botto di mini giochi a cui potete giocare Nel mio caso quello che voglio farvi vedere oggi è proprio di un cartone di Cartoon Network Ovvero Ben 10 che ho citato prima Il nome in particolare è Laser Tag Battle Vi ricordo ragazzi che questi mini giochi ovviamente sono molto semplici L'obiettivo principale in questo caso in questo mini gioco è quello di eliminare alcuni alieni Cercando di fare più punti possibili prima ovviamente di venire eliminati Spero che ragazzi quest'app vi possa interessare Vi ricordo ancora che la trovate nel link in descrizione qui in basso E nel caso guardiate qualche serie televisiva o iniziate a giocare a qualche mini gioco di quelli proposti Fatemelo sapere sempre con un commentino Ma ora non perdiamoci ancora in chiacchiere Ok io non vedo nessuno Dovrei avere il tempo di curarmi nella maniera più easy possibile Prendere scudi cose varie armi e poi effettivamente buttarci nella mischia Ma io più che mischia mi lancierei più sul lato della mischia Più una zona un po' più lontana non so se capite quello che Un po' più a destra della mischia Cioè qua sta la mischia e io sto un po' più a destra Ehi tu tizio tizia tu in generale Taglia ma si ma che ci frega Probabilmente verrà eliminato da qualcun altro e noi ci prenderemo la kill Hi guys this is my outfit today Di fronte panico Mica solo di fronte Ma che sta a sparare? Non c'è mai bisogno di una mano Vabbè a parte pausto Evidentemente bot tra l'altro Metti buono buono white Eh no ragazzi buscio Se sei white frate di buscio proprio Che armai ma che cos'è ma che cos'è Fermati So cosa Calmo Ok a posto So che arma era ragazzi Era la mitraglietta di John Wick infatti Vabbè io mi prendo il cecco Anche se lo faccio non so Neanche per quaglioscuro motivo Fantastico 46 goto Fermati Quanto ho 58? Stonks Nooo Basta Con un cecchino fare questa cosa è pericolosissima ragazzi ma Non mi potevo permettere di stare in safe Fantastico Zitti che non se ne è accorto Zitti che non se ne è accorto Tutti zitti Tutti zitti Bello 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 Me lo elimino me lo elimino Mamma mia che mira fra Io lo so fra che non vuoi darmi la kill Però fermati Fantastico bro Calma Lina non c'è bisogno Sì sì vai Oh comunque Il cosa ripetizione ragazzi Lo devono levare Guarda come sono costretto A scappare perché mi arrivano due tizze addosso Lo sapevo che l'avrei dovuto fare Non voglio fai dare Non voglio fai dare Tanto non voglio fai dare Tranquilli che mi metto qua sopra E vi lascio fare tutto Perché ti metti là Che ti possono sparare tutti Bravo complimenti Mo ti pusha quell'altro Bravo Sei stato molto intelligente Una terra Vai Bella raga Non vedo l'ora di fai darvi Fra Ma che c'è Posso lo scarro Un propulsore Qualcosa mi dice Che ha finito i materiali Non so cosa però Bello Ah sì sì ragazzi Li ha proprio finite Falesemente finite Ok GG Bella per te frate Ok prossima Allora Allora cerco di fare sempre queste sfide Con un po' di logica alla base Quello che ho deciso di fare È andare in una zona Un po' lontana Rispetto alla traiettoria Del bus iniziale Per incontrare meno gente E avere la possibilità Effettivamente di curarmi Ok io cerco Ancora nelle ceste Ragazzi Nella speranza di trovare qualcosa Di un po' più utile Di solo due splash Vi ricordo tra l'altro ragazzi Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E di attivare assolutamente La campanellina Non ve l'ho detto nell'indro Ve lo dico ora Ok ragazzi La sta un tizio Questa cosa non mi piace Questa cosa non mi piace Per nulla Eeeh Ah slurpfish Buono 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 Mangia papà Ma Mangia Mangia Dovete sapere ragazzi Che negli ultimi giorni Diciamo la mia gestione Della rabbia Sta andando un po' A farsi benedire Ecco Quindi Ora io prendo la cesta E lui mi cecchina Nella coscia sinistra Devo stare calmo Sono una persona calma Ragazzi Ok è un bot L'abbiamo capito tutti Che è un bot Dai Sparare Perché se mi spari Finisce male E u E tu E ciao Ok Ok Era semplice Lo so ragazzi Lo so Lo so Per esempio Questo C'aveva gli scudi E ragazzi Mi sa che sarò costretto A prenderli Bra Ma che è Zero point fish Non so neanche che fare Oh Bra Bra Pericolosissimo Come sei What you doing Beh stai calmo Non c'è bisogno Ma non c'è Ma stai calmo Ma calmati Ho preso il vantaggio eh Fantastico Fantastico Questo costruisce Più di tutti Bella brother Fantastico Sei Non mi hai detto Questa cosa Mamma mia No 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 Ah io me ne devo andare No no Raga io devo andare in safe Questo se mi leva troppa vita Io sono down Se mi leva troppa vita Io non vado più da nessuna parte Safe No No Ragazzi Non posso andare su T50 di vita No 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 Guarda come vado su T50 Guarda come vado su T50 Mannaggia panico No raga La safe Io non ci avevo fatto casa La safe No no Via 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 La safe Oh Mamma mia Io soffre di cuore Lasciatemi stare No No Altro bot Eh raga mi devo curare Mi curo E poi devo correre Ma tipo correre Ma avete presente Chi usa in volta i tempi d'oro Devo capire Se hanno fixato Ah ma Senti Ragazzi Finalmente mi hanno rimesso L'esame della patente A scuola guida Ma se questa è la prestazione Se questa è la prestazione Io non credo che abbia tante possibilità Sinceramente Voi che dite Ma cos'è Ma cos'è Ma nessun'auto funziona così nella realtà Ok no 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 Questa cosa Questa cosa Che vedete qui Questa cosa finirà male Questa finirà con un'headshotata Nel mio organismo Ah ma questo è un bot È un bot È un bot Ma perché Perché i bot Sono così un gran problema Per questo non gli fa cadere No 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 Io non so Tu cosa stia facendo La safe No Devo entrare in safe raga Ciao Ok Ok ce l'ho Devo stare No Altro inizio Ok Non so quello che sia successo Ragazzi stavano Altri due tipi Oltre a me A questo tipo Ma questo si è eliminato Il terzo E io mi sono fatto lui Che panichello raga No No Questo modifica Calmi Lo posso fare Tranquilli Ce l'ho No Fermi Dov'è Dov'era questo Dov'era Ciao Ciao Mamma mia Dov'è la safe Lasciami stare bro Lasciami stare Ma Dio Sento Dov'e la sua No 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 Grazie a tutti.